Ragazzuole, ragazzuole, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video. Sì, lo so, sono ancora un po' malaticcio, ho ancora la voce un pochettino particolare, il naso tappato, ma ragazzi, questo video doveva per forza uscire oggi. Questo perché, come sapete, il capitolo 2 è uscito praticamente da pochissimi giorni e io, in tempo record, ho raggiunto il rank massimo nelle ranked del capitolo 2, ovvero, ragazzi, nuovamente in Unreal. E sono, di nuovo, per tipo la quattrocentesima volta che vi pubblico un video del genere ogni season, sempre la prima ragazza al mondo a raggiungere Unreal per prima. E solo per questo, ragazzi, mi raccomando, un bel pollice in su per supportare la vostra queen preferita, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto, e vi ricordo che mi trovate live streaming su Twitch tutti i giorni dalle ore 17, link in descrizione. E ragazzi, oggi vedrete una serie di giocate veramente pazzesche, fullboxate, 200, roba, ragazzi, ve lo giuro. Quindi ragazzoni, mi raccomando, preparatevi perché oggi ne vedete delle belle. Ora però non perdiamoci in chiacchiere e diretti di passare subito al video. Io vi auguro una buona visione. Facciamo un game on game, perché se fosse per me andrei solo a farlo. Il mio sport è la mappa. Tutto. Stavo proprio dicendo che come è di avere uno spasso, ora prendo il pompa verde e me lo perco, ho trovato lo spasso. Macchina. Matikeya. Aspetta che ce l'ho da me. Lo faccio ballare il mio. Devo fare ballare il mio e devo shittarmi il mio, se riesco. Allora lo faccio ballare, allora lo faccio ballare. Balla. Vieni, vieni. 200. Vai già verso di là, vai già verso di là. Mi si è bloccato il gioco, sono baggata, non so per da cosa. Ok, si è sbaggato, c'era un coso per terra. No, è tutta baggata questa zona. Box, box. 200. Madonna, sono un fenomeno. Team one, team one con Jaxo sto fa. Ma cos'è? Ragazzi, io sono qui a farmi il buco. Ma è Giorgio. Guarda, è la live. Non mi sento molto bene, ragazzi. Non... No, Kika, non posso venire. Guarda, no. No, Kika, sono baggata. No, Kika, sono baggata. Vieni, fai una rampa. Fai una rampa e buttati. Kika, se ci pusciano. Muoviti, muoviti, porco diaz. Vieni qua dentro. Ma mi muovo così, anche da noccata. Voglio vedere, aspetta. Guarda, guarda, guarda come sale. Guarda come sale. Luido. Oh, attenzione. Fortissimo. Devo rebuttarti. Quindi, in pratica, se per sbaglio entri in una balla di fieno, questo è quello che succede. Kika, io rivaluterei lo spot per i tornei in solo a sto punto. Che se per sbaglio ci entri, sparano dalla giuda rapida. Entri nel portaforte. Arrivano, 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 arrivano. Sound? Ballano, ballano, ballano. Faccio 201. Vai. 190, morto. Sei one shot, sei one shot. L'ho capito. Aspetta, dammi sound. Non farmi, non farmi panicare. No! Trento. Devi stare boxata, Kika. E non è lo stesso box, per favore. Curati. Sì, mi sono facendo mini. Box. Morto. Mamma mia, Martina. Ok, evitami per favore le balle di fieno, perché non vorrei rivivere la stessa esperienza. Ma non era da ripetersi? No, mi sono sersi... Ah, l'ala. Comunque c'è questo bug, pure con il bagno, mi hanno detto. Diciamo che ho una Tommy Gun come secondo Switch, che non è che mi faccia così tanto impazzire. Anzi, fa poca. Madonna, se riesci a farlo ballare, Kika, te lo giuro. Allora, però, devi venire, devi andare lì. No, aspetta, stanno volando. Ok, non lascio perdere. Sì, si sta volando. Sta venendo qua, eh, però. Sta venendo qua. Fallo ballare, fallo ballare. Vieni, vieni, vieni. Dox. Marto. Oh, 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 c'è qua sotto a Craki. Sono due, free kill, devono salire questi. Corro, corro, corro. Il tre dita c'è il Barrett, te lo dico. No, dove sono? Di preciso. Qua sotto, qua sotto. Uno qui. Sono completamente in low run, devono salire, dobbiamo bimmarli. Vieni qua da me. Ok, io sono... Salgono. Craccato, craccato, craccato il tre dita. Vai, arrivo. Era un hit, l'ho craccato. Io ho spaccato il medico. C'è una guarda, c'è una guarda, c'è una guarda white. Vieni qua. Box. Morto. Vai sul lato, vai sul lato. Gioga safe, te lo scelgono. Sei ok? Sei un attimo sola. Vieni, è safe. Asi vuole. Craccato. Vai. Ok, vieni con me. Vuoi il Barrett? Sì, volentieri. Però mi faccio un big e ne lascio uno a te. Va bene, vai. Abbiamo due che sparano a sinistra, ok? E di qua si spara un altro team. È lì dentro, eh? Craccato. Mi devo curare, mi devo curare. Ha fatto max quasi, eh? Qua ha ucciso il tipo. Gioca lenta. E ci siamo. Ok, devo finire il fight subito. È qua dentro, è qua dentro. Insieme. Morto. Ok. Bravissima. Siamo contro una tua, contro una tua, contro una tua. L'ultima tua. Non ho info precise, però credo che siano là, perché sono le build costruite. Sì, sì, qua dentro, guarda. Nel cono. Vuoi uno scar? Ok, sono andati di materasso, dietro la collina. Sono qua dietro. A est, ok? Non posso farmi vedere io. Ti flancano. Capito? Ma questa? Da lì li vedi, sì, da lì li vedi là sopra. Hanno flancato col materasso. Ah, lo vedo, lo vedo. Ho preso... 19 doppio. Non è? Morto? Bravissima. Ok. Carico il bug. Shakerlo, 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 shakerlo. Qua abbiamo fatto una combo in due, lo sai? Ahah. Faccio big. Stai lì pure a terra, bro. Vai. Tagliamo, dai. Vedo full. 200. A posto. Comunque un... Nonostante il bug e i tuoi clash dato il mio bug... L'abbiamo winnata, Geek, cosa ne pensi? Oh, oh, mi sei bloccato. Sì, però... Che clash ho fatto? Non fatti porca... Due. Estremi, estremi, estremi. Però daglie, daglie. Ragazzi, questo è... Questo è un game di tutto rispetto, comunque. Eh, sì. Che devo fare lì con Giorgio a farla lanciare dalle palle di fieno. Cioè, quanti aspetta? Vediamo. Oddio, ragazzi. Oddio, ragazzi. Cosa è successo? Ragazzi. L'hai preso? Cioè, raga, comunque... Comunque... Ci sono... Attualmente... Io sono tipo posizionata a 278esima. Quindi... Facciamo reso conto che ho fatto una win. Quindi, vabbè, magari sono un pochettino più alta. Penso che ce ne saranno, secondo me, 500, sai? Non troppi. Secondo me, tipo, mille non ci arriva nemmeno, attualmente. Sebbene... Sebbene rancare in questa season all'inizio era molto più facile, poi dal champion in poi è diventato molto più lento. La cosa bella è che non posso gridare perché sono i vicini, mi buttano fuori da casa e sono tipo luna e mezza di notte, sono raffreddata, sono ammalata, mi manca la voce. Ovviamente, già lo sapete, sempre prima ragazza al mondo, always and ever. Ormai, ormai tipo questo tipo, questa tipologia di video, ormai la faccio tipo da una cosa come... Boh, quante season ragazzi? Quanti capitoli? Tipo 550 season? Le più forti. Bene ragazzi, siamo passati al termine di questo video, come avete visto abbiamo raggiunto ufficialmente la real nel capitolo 2, quindi let's go ski! E come avete visto ci sono solamente circa 250 persone, o meglio, secondo me attualmente ci saranno in real tipo massimo massimo mille persone, quindi veramente veramente poche. Più che altro devo dire che rancare in champion diventa veramente molto molto più difficile e molto più lento perché anche se fai magari una win con 10 kill fai tipo il 10%, ma se perdi uno start, perdi tipo il 6%, cosa in realtà giusta perché deve essere comunque difficile, anche se fosse per me renderei la real ancora più complicato per renderlo ancora più competitivo. Quindi ragazzoni, se questo video vi è piaciuto e siete fieri della vostra Martina, non dovete fare altro che lasciare un bel pollicione in su a questo video e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E vi ricordo che se volete vedere altri momenti come questi, mi trovate live streaming su Twitch tutti i giorni dalle ore 17. Ora però ragazzi, noi ci dobbiamo salutare, ma non mi preoccupate perché chiaramente ci ripetiamo in un prossimo video, nella speranza anche di riprendermi in fretta da questa influenza. Dalla vostra Gradomist è tutto, bella a tutti ragazzi!